Cominciamo dal modo giusto con cui lavorano i cristiani, cioè iniziando a pregare. Perché se non si comincia con la preghiera, però prima abbiamo un momento di spiegare. Ci viene introdotto come si svolge la cosa e anche le indicazioni per la preghiera. Possiamo un attimo metterci seduti. Intanto buonasera a tutti, bene arrivati. Abbiamo sollecitato anche i parroci più lontani, magari con quanti non potevano essere presenti qui per diversi motivi, anche quello di ritrovarsi nelle parrocchie o da più parrocchie riunirsi in un luogo insieme. L'incontro viene trasmesso in streaming, perciò avere anche questa possibilità di condividere, oltre che qui anche negli altri luoghi da casa, preferibilmente nelle nostre parrocchie, condividere questo momento. Misericordiosi come il Padre, dopo il primo anno di esplorazione e di conoscenza nell'avvio dell'anno pastorale di settembre, il Vescovo Nazareno ha iniziato ad introdurci nella nuova strutturazione della Diocesi. A partire da alcuni riferimenti, il Sinodo Diocesano, che questa Chiesa ha celebrato tra l'89 e il 95, e le due sue lettere, quella per l'indizione diocesana del Giubileo, e la lettera a un giovane parroco. Il cammino di strutturazione della Diocesi non è un fatto di semplice, e abbiamo visto neanche tanto, organizzazione. Quanto è invece pienamente pastorale? È un fatto pastorale e che ha come obiettivo quella pastorale fondamentale, che ogni comunità parrocchiale ha come missione, in quanto è figura di Chiesa radicata in un luogo. E allora dobbiamo porci la domanda, come intercettare a partire dalla parrocchia i nuovi luoghi dell'esperienza umana? La missione della parrocchia in quanto figura di Chiesa vicina alla vita della gente, e la sfida è come accogliere e accompagnare le persone, tessendo trame di solidarietà in nome di un Vangelo di verità e di carità, in un contesto di complessità crescente. Una Chiesa è una parrocchia che è figura di Chiesa semplice e umile, e la sfida è come far sì che la sua debolezza aggregativa non determini una fragilità della proposta. E ancora, la parrocchia come figura di Chiesa di popolo, e la domanda come sfuggire al pericolo di ridursi a gestire il folklore religioso o il bisogno di sacro. Rispetto a queste domande, che i Vescovi ci hanno consegnato nel documento Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, nasce questa nostra proposta diocesana, il ciclo di incontri sulla misericordia. Gli uffici pastorali, i tre centri pastorali indicati dal Sinodo diocesano, Catechesi, Liturgia e Carità, hanno avviato un lavoro di equip, sicuramente faticoso, ma altrettanto costruttivo in termini di pensare, elaborare, costruire in stile sinodale. Anche questo è un percorso che stiamo costruendo, incontrandoci settimanalmente con Don Egidio, che è coordinatore. Non è presente questa sera, perché gli esercizi spirituali, come non è presente Don Pietro Spenanzoni, ancora in convalescenza da una bella bronchite che si è preso. Proponiamo, perciò, agli operatori pastorali parrocchiali, a chi svolge i servizi della Catechesi, dell'animazione liturgica, della testimonianza della Carità, agli insegnanti della religione cattolica, sei incontri sulla misericordia, con diversi sguardi, come potete vedere dai titoli. Vuole essere un servizio alle unità pastorali e alle parrocchie, nell'accompagnarle ad attuare gli obiettivi che il Vescovo ci ha dati, di lavorare insieme tra parrocchie vicine, di riorganizzare i servizi pastorali in maniera unitaria, di favorire la sussidiarietà tra preti, diaconi, operatori pastorali. Una bella sfida a cui siamo chiamati e il tempo di scadenza di questa sfida non sarà un anno, ma, come dice il Vescovo, 17, siamo arrivati adesso, però è una sfida nella quale ci vogliamo stare. Il primo incontro di questa sera sarà la misericordia nella Bibbia in generale, in particolare nell'Antico Testamento. Poi vedremo più avanti che sarà possibile fare anche domande attraverso un numero di cellulare che poi comparirà, che comunque dirò anche adesso, è il 344-243-3269. 344-243-3269. Tramite l'SMS e probabilmente, se riusciamo, anche Whatsapp. Soprattutto per chi sta a casa o sta nelle parrocchie, ci ascolta dalle parrocchie. e iniziamo con la preghiera e l'ascolto della parola. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Facciamo due cori. Primo coro alla nostra sinistra, secondo alla destra e poi avremo anche una parte insieme. A te, Signore, innalzo l'anima mia. Mio Dio, in te confido che io non resti deluso. Non trionfino su di me i miei nemici. Chiunque in te spera, non resti deluso. Sia deluso chi tradisce senza motivo. Fammi conoscere le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Io spero in te tutto il giorno. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore che è da sempre. I peccati della mia giovinezza e le mie ribellioni non li ricordare. Ricordati di me nella tua misericordia per la tua bontà, Signore. Buono e retto è il Signore. Indica ai peccatori la via giusta. Guida i poveri secondo giustizia. Insegna ai poveri la sua via. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. Per il tuo nome, Signore, perdona la mia colpa anche se è grande. C'è un uomo che teme il Signore, gli indicherà la via da scegliere, e gli riposerà nel benessere la sua discendenza possederà la terra. Il Signore si confida con chi lo teme, gli fa conoscere la sua alleanza. I miei occhi sono sempre rivolte al Signore, è Lui che fa uscire dalla rete il mio piede. Volgiti a me e abbi pietà, perché sono povero e solo. allarga il mio cuore angosciato, liberami dagli affanni. Vedi la mia povertà e la mia fatica e perdona tutti i miei peccati. Guarda i miei nemici, sono molti, e mi detestano con odio violento. Proteggimi, portami in salvo, che io non resti deluso, perché in te mi sono rifugiato. Mi proteggano integrità e rettitudine, perché in te ho sperato. Odio libera Israele da tutte le sue angosce. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli anni. Dal libro del profeta Osea «Quando Israele era fanciullo, io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Ma più li chiamavo, più si allontanavano da me. Immolavano vittime ai bal, agli idoli bruciavano incensi. A Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Come potrei abbandonarti, Efraim? Come consegnarti ad altri, Israele? Come potrei trattarti al pari di Adma, ridurti allo stato di Seboim? Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Non darò a sfogo l'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo. Sono il Santo in mezzo a te e non verrò da te nella mia ira. Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio. Il lavoro che cerchiamo di fare assieme è affrontare questo tema della misericordia all'interno del contesto dell'Antico Testamento. Capite che in poco tempo è veramente difficile. Però è necessario che ci proviamo almeno a fare una sintesi. E io parto non da dentro la Bibbia, ma da dentro la vita. Perché uno dei problemi che noi incontriamo quando leggiamo la parola di Dio è che veniamo dalla vita, veniamo dalla nostra realtà e dalla nostra epoca e dal pensiero della nostra epoca. Noi abbiamo un modo di pensare le cose che è tipico dell'uomo di oggi. E se non ci riflettiamo un attimo prima, prima di accostarci alla Bibbia, rischiamo di leggere la Bibbia non in quello che dice, ma secondo il nostro punto di vista, molto personale. Se non è riflesso questo punto di vista, non riusciamo a entrare in dialogo con la parola di Dio. E guardate che per quanto noi diciamo che la misericordia è una bella cosa, che il Dio misericordioso ci piace, che Papa Francesco, che parla di Dio misericordioso, è un Papa che ci sta simpatico, ma in realtà il concetto di un Dio misericordioso nel mondo moderno fa difficoltà, fa problema. Un Dio giusto non fa problema a nessuno. Un Dio onnipotente, beh, Dio, se è Dio, deve essere onnipotente. Un Dio misericordioso è più complicato. Tenete presente che non è così diffusa questa idea, che Dio sia misericordioso. Se noi guardiamo a coloro che in qualche modo condizionano il pensiero, perché costruiscono le idee, poi sembra che queste idee siano inutili, ma poi plasmano la vita, i filosofi, e se partiamo dal primo grande filosofo del mondo moderno, che è Immanuel Kant, scopriamo che Kant dice una cosa, che l'etica, il comportamento giusto, il comportamento morale, non deve essere guidato dalle emozioni, come la misericordia o la compassione. Se tu ti appoggi alla misericordia e alla compassione, secondo Kant, non costruisci un mondo veramente giusto, dove ognuno ha quello che gli spetta, e è una melassa la misericordia, secondo Kant. E quindi un Dio misericordioso sarebbe un Dio poco etico, un Dio imperfetto, secondo la perfetta e bellissima costruzione etica di Kant. Sembra che lui non abbia fatto danni, ma in realtà da questo pensiero deriva il modo di guardare alla misericordia sia di certo liberismo che di certa filosofia marxista. Kant, Hegel, e poi arrivano loro. Per cui, ad esempio, la riflessione del mondo marxista dice che la misericordia è da guardare con sospetto perché noi bisogna costruire la giustizia. se tu parli troppo di misericordia rischi di creare un mondo nel quale chi deve rivendicare la giustizia aspettando la misericordia si indebolisce e così la rivoluzione non la fa più. Quattro preti in Peru che sono stati beatificati da poco furono ammazzati dai terroristi di Sendero Luminoso perché parlando tanto di misericordia, di carità, cercando di fare la carità, incoraggiando i ricchi a fare il bene ai poveri, secondo i terroristi di Sendero Luminoso non facevano scattare quella giusta rivendicazione della giustizia che avrebbe portato alla rivoluzione. quindi erano degli anti-rivoluzionari e l'hanno ammazzati. Sono stati beatificati pochi giorni fa. Vedete, ma anche il filosofo ispiratore della politica di destra e di estrema destra Friedrich Nietzsche. Nietzsche dice che l'uomo ideale è l'uomo forte e l'uomo forte non può essere misericordioso. La razza forte deve essere una razza chiara che non tratta con nessuno, che non si commuove mai perché se ci si commuove non si costruisce il futuro. E la versione economicista di questa filosofia dice business is business. Gli affari sono affari. non si può gestire l'economia a partire dalla misericordia. E se no fallisce tutto. Il grande affarista deve essere spietato perché i conti devono tornare. Capite? Questo è un pensiero dentro il quale ci stiamo dalla mattina alla sera e ci porta a pensare che la misericordia, la commozione, la compassione possono esserci come aggiunta. Ma non si può impostare una società a partire da questo. Non si può impostare un progetto di futuro a partire da questo. Possono essere la ciliegina sulla torta ma il pan di Spagna deve essere qualcos'altro. Il mondo però costruito da questa idea di efficienza economica che non si deve commuovere se no non si fanno gli affari porta ci dice Papa Francesco a scartare intere fette di umanità come se non fossero uomini. Come se ci fossero gli uomini sopra il gradino e quelli sotto. E così d'altra parte la grande costruzione di una società giusta tutta di uguali nelle grandi utopie egualitariste pensate a che cos'era l'URSS ha portato negando ogni misericordia a una società di profondi diseguali. bisogna che ce lo diciamo chiaro il secolo che appena trascorso almeno una cosa ce l'ha insegnata che un progetto di mondo senza misericordia invece di diventare un mondo più giusto diventa un mondo più ingiusto. La misericordia non mette in crisi la giustizia anzi è proprio dove la misericordia non c'è che la giustizia non ce la fa ad applicarsi in pienezza perché volente o nolente se tu togli la misericordia cioè se tu togli l'attenzione al fragile al debole al povero all'ultimo la società fortemente competitiva la società fredda e razionalmente strutturata potenzia e privilegia i forti ed esclude e schiaccia i deboli e nasce quella società dello scarto quella società in cui ci sono persone che non contano per questo tutti i papi del secolo scorso hanno sottolineato il valore della misericordia Giovanni XXIII nel discorso d'apertura del concilio Vaticano II ha detto oggi la Chiesa preferisce usare la medicina della misericordia piuttosto che quella della severità Giovanni Paolo II la prima enciclica l'ha dedicata a Gesù Cristo la seconda alla misericordia divesi in misericordia Papa Benedetto ha scritto un'intera enciclica sul tema della misericordia dedicata a Dio amore un Dio che ama un Dio misericordioso e non è un caso che Papa Francesco abbia impostato il suo pontificato sul tema della misericordia allora vedete il discorso della misericordia non è un discorso secondario noi facciamo un mondo serio poi in un angolino riserviamo uno spazio per essere misericordiosi se si fa così se la misericordia è un accessorio come tanta parte del pensiero dentro il quale viviamo fin da piccoli sostiene di fatto la misericordia non trova spazio c'è sempre un buon motivo per metterla da parte se non sta al centro e se non è il punto fondamentale per pensare l'uomo e ecco il messaggio biblico ancora prima per pensare Dio la Bibbia ci dice che l'unico modo in cui possiamo pensare Dio perché così Lui si è rivelato è un Dio misericordioso la misericordia non è un momento di fragilità una commozione momentanea che ogni tanto prende a Dio prima Dio è il Dio onnipotente giusto forte creatore tutto quello che volete e poi avanza anche un po' di misericordia no è al cuore del mistero di Dio l'essere misericordioso vedete questo tema che a Dio in qualche modo la misericordia gli appartiene non è solo cristiano in quasi tutte le fedi in tutte le credenze viene valutato molto la famosa regola d'oro non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te o meglio in positivo fa agli altri ciò che desideri che gli altri facciano a te che è la fondamentale regola dell'empatia cioè mettiti al posto dell'altro non considerare l'altro uno estraneo ma considera l'altro uno al tuo pari uno che condivide con te la vita e con cui tu la vuoi condividere questa regola a parole a volte anche a fatti è sostenuta dalla gran parte delle fedi però la tradizione biblica va oltre non dice che tra le tante cose della vita ci vuole anche un po' di misericordia ma pone Dio come il misericordioso la fede islamica per quanto il Corano fa parte della tradizione biblica per derivazione almeno in parte ha assorbito questo tutte le sure coraniche cioè i capitoletti del Corano salvo una cominciano con l'invocazione a Dio onnipotente e misericordioso quindi il tema della misericordia c'è in Dio però è Dio onnipotente e misericordioso la misericordia è in Dio ma come secondo momento prima di tutto c'è l'onnipotente avete fatto caso al credo credo in un solo Dio non è secondario che cosa viene prima non è secondario così anche la concezione biblica antico testamentaria in sé è ancora più affascinata dall'onnipotenza che dalla misericordia anche se l'antico testamento lo vedremo apre molto verso questo tema della misericordia è con la venuta di Cristo che le cose si ribaltano perché è con la venuta di Cristo se Dio si fa uomo cioè se Dio scende al livello dell'ultimo anzi si fa l'ultimo degli uomini come diceva Charles de Foucault così ultimo che nessuno gli ha più potuto fregare il posto dice Charles de Foucault in una sua riflessione ecco se Dio si fa uomo e ultimo degli uomini allora l'empatia il fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te quel principio di uguaglianza profonda per cui tutti siamo allo stesso livello nessuno è sopra un gradino diventa fondamentale se Dio si è posto al livello dell'uomo questo fa sì che nessun uomo possa porsi ad un livello superiore agli altri se Dio è sceso al piano terra chi può salire al primo piano capite l'incarnazione pone la solidarietà il legame l'uguaglianza l'empatia la condivisione il camminare tutti allo stesso livello come la base fondamentale questa è la misericordia la misericordia non è io sono buono la misericordia è io condivido con te e ciò che tu soffri non mi è indifferente ciò che tu sei e vivi non mi è indifferente non riesco a essere indifferente a ciò che tu vivi è l'empatia proprio in questo si capisce il cuore del cristianesimo la differenza cristiana è determinata da questa visione di Dio misericordioso prima di tutto padre prima di tutto questo è il mistero già la Bibbia Antico Testamento ci prepara questo una breve panoramica che forse ci può aiutare se apriamo la Bibbia troviamo che già nelle prime pagine Dio ha creato tutto nel bene ma tramite il peccato il mondo piomba nel caos nel buio nella confusione delle acque di sopra che si mescolano con le acque di sotto il diluvio c'è il ritorno al caos prima della creazione ma Dio è colui che resiste al male e al caos fin dall'inizio e dopo aver resistito al male e al caos Dio comincia a costruire un cammino nuovo dentro questo mondo del peccato facendosi partner alleato amico compagno di strada di Abramo non c'è ancora la parola misericordia ma ci sono gli ingredienti della misericordia questo questa amicizia questo mettersi allo stesso livello questo farsi complice ed alleato questi sono gli ingredienti della misericordia Dio con Abramo comincia a camminare un cammino di misericordia è scomparso il gradino non sta più lui lassù e Abramo qua giù ma ricordate la bellissima scena le querce di Mamre Abramo se lo trova davanti alla faccia e si mangiano insieme un bello yogurt e un po' di capretto arrosto no? la festa degli amici ecco la misericordia a Mosè Dio si rivela nel roveto ardente prima di tutto come il Signore che ascolta il grido del suo popolo che vede la miseria di un popolo schiavo e non resiste a stare lassù a fare l'onnipotente ma sono sceso per salvarlo Dio si porta al livello dell'uomo scende per salvare e quando rivela il suo nome Dio rivela proprio questa condizione di condivisione di vicinanza le quattro lettere del nome sacro vanno tradotte non io sono colui che è come se Dio fosse andato a scuola di ontologia atomista ma io sono e sarò presente io sono e sarò attivo io sono e sarò vicino questo vuol dire nel mio dialetto è chiaro non si dice io sono ma ci so ci so la traduzione bellissima corretta di Yahweh sarebbe proprio questo ci so fidati ci sono ci sono ecco il tema della misericordia una presenza che è condivisione che è attenzione che è vicinanza così Dio si rivela e nella seconda rivelazione di Dio a Mosè in Esodo 33 Dio dice a chi voglio far grazia e di chi voglio avere misericordia avrò misericordia cioè Dio ribadisce la sua somma libertà Dio non è misericordioso per forza non è misericordioso per fragilità di cuore per cui si commuove ed è misericordioso Dio Dio è misericordioso per scelta ha perdonato all'Israele peccatore dopo che Mosè ha pregato e il popolo ha pianto ma non gli ha perdonato perché è un tipo dal cuore tenero no una fragilità di Dio ma gli ha perdonato perché vuol essere misericordioso e capite questo è un messaggio importante perché se la misericordia fosse una scivolata emotiva di Dio uno potrebbe temere che magari se qualche giorno c'è la pressione un po' più alta Dio regge meglio e non si commuove non è un optional la misericordia la misericordia è il modo di essere di Dio perché Dio vuol essere così farò misericordia avrò misericordia di chi voglio avere misericordia la volontà di Dio è totalmente impegnata la sua onnipotenza è giocata nella misericordia la misericordia è il suo essere in maniera assoluto è una scelta libera di Dio che in quanto assoluto e sommamente libero decide di legarsi con un amore fedele per questo in esodo 34 nella terza rivelazione a Mosè Dio proclama il suo nome cioè fa una dichiarazione ufficiale del suo nome e lo coniuga così Yahweh il Dio misericordioso e pietoso lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà questo è il nome di Dio nell'Antico Testamento Dio si definisce così non è secondario è il momento più solenne è come se Dio consegnasse a Mosè la sua carta d'identità e per quanto nelle immagini delle storie dell'Antico Testamento ci sono i momenti della condanna forte o della correzione dura ma d'altra parte dice il libro della Sapienza qual è quel padre che siamo un figlio non lo corregge quando sbaglia anche la correzione è misericordia perché è una forma di amore responsabile Dio allora si caratterizza così come colui che è fortemente connotato dalla misericordia e questa autodefinizione di Dio la troviamo come una costante in tutto l'Antico Testamento per esempio Deuteronomio 4 c'è un po' la storia del popolo dopo il peccato il Signore vi disperderà fra i popoli non resterete che un piccolo numero fra le nazioni dove il Signore vi condurrà là servirete a dei fatti da mano d'uomo i quali non vedono non mangiano non odorano ma di là cercherai il Signore tuo Dio e se lo troverai se lo cercherai con tutto il cuore e con tutta l'anima nella tua disperazione tutte queste cose ti accadranno negli ultimi giorni però tornerai al Signore tuo Dio e ascolterai la sua voce perché il Signore tuo Dio è un Dio misericordioso che non ti abbandonerà Dio non lascia il suo popolo a crogiolarsi nel suo peccato e nelle sue tremende conseguenze perché è un Dio misericordioso e della spiritualità dei Salmi il tema di Dio misericordioso è un tema preponderante Salmo 86 o Dio gli arroganti contro di me sono insorti una banda di prepotenzi insidia la mia vita non pongono te davanti ai loro occhi ma tu Signore Dio misericordioso e pietoso lento all'ira e grande nella fedeltà salvami ecco la radice della speranza Dio è misericordioso Dio si è autodefinito misericordioso e allora l'orante il salmista quando si trova disperato gli può dire oh devi essere misericordioso eh l'hai detto tu che sei così e raggiunge la ripetizione pietoso e giusto è il Signore il nostro Dio è misericordioso è bello perché il salmo 116 mescola giustizia e misericordia pietà e condanna di quanti sbagliano non li sente come alternativi Dio sa essere misericordioso restando giusto e sa essere giusto essendo misericordioso l'apice della rivelazione dell'Antico Testamento quanto alla misericordia di Dio si trova nel profeta Osea ai suoi tempi il popolo ha peccato in una maniera così profonda che il profeta dice è stato distrutto totalmente il legame d'alleanza voi avete rinnegato Dio e siete ormai alla fine al capitolo 11 del profeta Osea c'è una trattazione della storia del popolo del suo peccato e della misericordia che è straordinaria dice così quando Israele era un fanciullo io l'amato e dall'Egitto chiamato mio figlio ma più li chiamavo più si allontanavano da me immolavano vittime i Baal bruciavano incenzi agli idoli a Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano ma essi non compresero che avevo cura di loro Dio padre che tiene per mano il suo bambino popolo si scontra contro il peccato di questo popolo questa immagine paterna continuando nel testo diventa materna io li traevo con legami di bontà con vincoli d'amore ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia mi inchinavo su di lui per dargli da mangiare è l'immagine della mamma che prima tira sul bambino alla guancia poi si piega così gli porge il seno e lo nutre ecco questa immagine di Dio che ama il suo popolo come un padre il papà che insegna a camminare al bambino come una madre che allatta il suo piccolo dopo avergli fatto un po' di coccole non è pensabile sulla terra un amore più grande eppure eppure il popolo ha peccato ed ecco che giunge il castigo non ritornerò al paese d'Egitto ma Assur sarà il suo re perché non hanno voluto convertirsi la spada farà strage nelle loro città spaccherà la spranga di difesa quella che fermava la porta della città arrivano con la riete spaccano entrano in città e possono prendere tutto l'annienterà al di là dei loro progetti il mio popolo è duro a convertirsi chiamato a guardare in alto nessuno sa sollevare lo sguardo attenti che vuol dire questo avete presente i due versetti sopra il bambino portato per mano dal papà se guarda in alto vede il volto del padre il bambino allattato dalla mamma se guarda in alto vede il volto della madre israele israele nel suo peccato è chiamato a guardare in alto non all'un onnipotente che lo schiaccia ma un volto paterno e materno di dio ecco la misericordia e qui dopo che nonostante i castighi il popolo continua a intestardirsi nel suo peccato abbiamo la svolta drammatica come potrei abbandonarti Efraim come consegnarti ad altri israele come potrei trattarti al pari di Adma ridurti allo stato di Zeboim le città distrutte quando fu distrutta anche Sodoma e Gomorra il mio cuore si commuove dentro di me il mio intimo e qui una delle traduzioni potrebbe essere anche utero il mio utero freme di compassione cioè le contrazioni uterine immagine questo testo mescola immagini paterne e materne perché solo dalla mescolanza di queste immagini riusciamo a comprendere la grandezza dell'amore di dio non darò sfogo all'ardore della mia ira non tornerò a distruggere Efraim anche se se lo merita perché Dio è misericordioso perché non condanna Efraim eccola il punto geniale di questo testo di Osea che è già un capolavoro perché sono Dio e non un uomo sono il santo in mezzo a te e non verrò da te nella mia ira l'uomo intende la pienezza della giustizia come l'annientamento del peccatore Dio è di più Dio Dio riesce a realizzare una giustizia superiore attraverso la misericordia come io sono il santo tu no non lo capisci però questo testo ci dice una cosa importantissima se vogliamo capire Dio non dobbiamo proiettare su di Lui ciò che noi siamo noi siamo immagine di Dio ma Lui non è a immagine nostra non so se noi siamo creati a immagine di Dio e questo ci parla della grande dignità dell'uomo ma se pensiamo che Dio è fatto a immagine nostra noi riduciamo Dio dentro quella piccola scatola di odio egoismo chiusura e freddezza razionale che è l'uomo e il Dio che ne viene fuori è un Dio che può solo essere onnipotente giusto ma misericordioso no perché noi misericordiosi non siamo il profeta ti dice io sono Dio non potrai capire la misericordia finché la misuri su di te sulla tua ira sulla tua rabbia sulle tue frustrazioni sui tuoi limiti l'errore che l'umanità fa è di ridurre Dio a sua immagine noi siamo a immagine sua ma se lo riduciamo a nostra immagine e siccome di noi quello che brillano sono soprattutto i difetti proiettiamo su di lui i nostri limiti i nostri difetti non capiremo mai Dio San Giovanni arriverà a dire questo con potenza dicendo Dio è amore che è bellissimo non dice Dio ama ma Dio è amore l'amore è dono l'amore è totale passione per l'altro l'amore è proiezione di dono di sé verso l'altro Dio è questo non Dio fa questo Dio è questo noi siamo persone che a volte riescono ad amare Dio ama punto anzi è amore allora l'Antico Testamento non arriva a questo vertice perché gli manca l'ultimo passo un Dio che si proietta così tanto verso l'umanità da farsi uomo ma è una preparazione a questo e chi legge l'Antico Testamento a partire dal Vangelo lo comprende in pienezza per me uno dei testi più interessanti sulla misericordia dell'Antico Testamento è un testo un doppio testo tratto dal libro della Genesi noi siamo abituati a pensare che il libro della Genesi che è il primo della Bibbia sia anche il primo scritto e magari il più antico in realtà soprattutto Genesi 1.11 costituiscono attraverso un linguaggio narrativo e simbolico dei testi che sono stati scritti tra gli ultimi di tutto la Torah di tutto il Pentateuco Genesi 1.11 è un testo che ha al suo interno tradizioni antichissime ma l'elaborazione finale di questo testo è molto dopo l'esilio e c'ha alle spalle tutta la riflessione teologica e spirituale di Israele con un linguaggio denso di simboli parla del mistero della relazione tra Dio e l'uomo chi è l'uomo e chi è Dio per questo quando uno spiega la creazione dell'uomo il peccato dell'uomo non finisce mai di spiegarlo perché è un testo estremamente evoluto è un trattato di teologia non è una storiellina per bambini ora nei due racconti del peccato fondamentali che sono il peccato di Adamo e il peccato di Caino cioè il primo peccato e il primo omicidio cioè il primo peccato e il primo peccato irreparabile perché ogni danno in qualche modo lo ha giusti ma quando hai ammazzato un uomo non c'è verso quindi il peccato di Adamo e il peccato di Caino sono il primo peccato la prima ribellione contro Dio e il primo peccato irreparabile perché tutte le cose le puoi ricostruire ma non puoi ridare la vita a un uomo che hai ucciso allora davanti a questi due vette del peccato ci sono due gesti di Dio Dio non fa finta che il peccato non ci sia al peccato di Adamo seguirà nella sentenza divina l'annuncio delle conseguenze del peccato attenti non è una vendetta o una punizione è un riconoscimento ora poiché hai fatto questo hai prodotto un tale sconvolgimento nell'armonia del creato che salterà la tua relazione con l'altra la tua relazione con me la tua relazione col creato e alla fine odierai pure te stesso questo è quello che capita ad Adamo al punto che Adamo ed Eva si accorgono di essere nudi cioè si accorgono di essere fragili limitati occasione di aggressione l'uno dell'altro e lì Dio cosa fa Dio creò delle vesti per Adamo l'invenzione dell'abito di Adamo è un bellissimo significato di che cos'è la misericordia la misericordia è un'azione creativa di Dio che non fa finta che non ci sia il peccato ma riesce a vincere il peccato con la sua potenza creativa non cancella niente Dio non distrugge crea creando l'abito rende Adamo in grado di proteggersi dalle intemperie di difendersi dagli sguardi che lo fanno sentire in difficoltà gli rende la vita vivibile ecco la misericordia la misericordia è la potenza creativa di Dio che supera il peccato e crea una vita al di là del peccato il secondo gesto è dopo la morte di Caino dopo l'omicidio di Caino dopo la morte di Abele Caino in conseguenza del suo aver distrutto la relazione fraterna diventa fuggiasco cioè non riesce più a costruire nulla di stabile ma sempre al giro non riesce a costruire uno stare perché perché ha distrutto la relazione ma Dio pose un segno su Caino come segno di protezione perché chiunque lo incontrasse non lo uccidesse perché lui era protetto da Dio il segno su Caino è un altro gesto creativo in cui Dio non fa finta che il peccato non ci sia ma con un gesto creativo crea vita al di là del peccato crea vita oltre il peccato crea una possibilità di vita oltre il peccato questa è la misericordia la misericordia secondo l'Antico Testamento non è semplicemente facciamo finta che non hai peccato o mi dimentico del tuo peccato ma prendendo sul serio il peccato e le sue conseguenze che ci sono in maniera creativa nuova con la mia potenza io creo uno spazio di vita una possibilità di vita che supera il peccato è la resurrezione dopo la morte è il Cristo risorto dopo la crucifissione ecco la misericordia la potenza di Dio che supera il male ecco potremmo dire varie altre cose al limite quelle le metto su un foglietto e ve le metto sul sito perché se no vi torturo inutilmente il problema è che l'Antico Testamento è un pochino tanto 2320 pagine nell'edizione mia per cui un tema come questo più in sintesi di così non si poteva grazie non aggiungiamo nulla e possiamo dare spazio ad alcune domande se riusciamo magari ne accorpiamo due tre insieme e invitiamo anche chi ci sta ascoltando in streaming o anche per radio può utilizzare il numero di telefono 344 2433 269 inviando un sms vediamo se funziona la cosa che sperimentiamo noi per la prima volta ma l'abbiamo copiata all'ufficio famiglia per gli incontri diocesani che rompe il ghiaccio e naturalmente venire qui brevemente la domanda in modo dare spazio a più persone possibili guarda vieni qua perché stiamo anche diamo possibilità anche a chi è a casa ad ascoltare anche il nome guarda grazie Giuliano Meschini Dio diciamo così Adamo e Eva hanno rotto questa comunione con Dio diciamo non vivendo più nella volontà di Dio diciamo che Gesù Cristo ha posto al centro della sua vita compiere la volontà di Dio ecco io vorrei comprendere perché oggi diciamo così c'è questa questa novità no di dover ritornare nella volontà di Dio di vivere la volontà di Dio non fare la volontà di Dio ma vivere la volontà di Dio per cercare di entrare in quest'opera creatrice di Dio che ci può rendere effettivamente una società di pace di benessere di giustizia e di tutto insomma ecco non so se sono stato chiaro grazie grazie a tutti Altre domande? O chiarimenti naturalmente? Don Alberto, si potrebbe fare anche senza altoparlante, però... No, 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 vieni, 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 vieni. No, che con la voce che c'ha Don Alberto. Quando studi a Chiavo l'Antico Testamento mi feggero impressione alcune frasi, soprattutto quella di Dio che si definisce io sono colui che sono. Cosa sono? Il creatore nella creazione. Cosa sono nei confronti del popolo eletto che era schiavo degli egiziani? Il liberatore, colui che ha misericordia. Penso che su quella definizione stessa di Dio possiamo porre un po' di attenzione. Allora, intanto cerco di dire qualcosa su queste due. Non so se ho intuito un po' bene quello che Giuliano cercava di comunicare. Forse sarò anche un po' stanco io. Io l'ho capita ridetta in maniera un po' semplice così. Cioè, davanti alla volontà di Dio che si esprime, le cose sembrano semplici. O obbedisci o disobbedisci. Se obbedisci stiamo a posto, se disobbedisci stiamo tutti sbagliati. E quindi la misericordia dove sta? Come si impone la misericordia? La misericordia è, vabbè, la volontà di Dio c'è ma fa quello che ti pare? Ecco, credo che sia importante capire che la misericordia non è un cancellare il fatto che Dio esprime la sua volontà e che la sua volontà è volontà di vita. La misericordia è l'affermazione che noi siamo dentro un'azione di Dio che non si ferma. Cioè, la volontà di Dio è una prima forma di misericordia. Davanti alla vita, Dio, dicendoti, rivelandoti dove sta il bene, dove sta il male, fa già un atto di amore misericordioso. Ti guida. Se tu questa misericordia la rifiuti, perché fai il contrario di quello che ti dice, la misericordia continua ad agire, non si ferma. Dio non dice, non gioco più, ma continua a entrare e a sforzarsi di entrare in relazione con noi, a proporci di nuovo la sua volontà o cammini, cammini che ci riportino al bene. La logica della misericordia che Papa Francesco chiede, ci chiede come Chiesa di recuperare, è non fermarci mai nella logica. È giusto, è sbagliato, hai fatto bene, bravo, discorso chiuso, hai fatto male, cattivo, discorso chiuso. La parola discorso chiuso non può essere in chi crede in un Dio di misericordia. Ci deve essere sempre lo sforzo di trovare un cammino, una via, una strada da percorrere, che non vuol dire, vabbè, abbiamo risolto tutto, facciamo finta che non sia successo niente, no? Dio non rimette Adamo, mi piaceva quell'immagine dell'abito, perché Dio non rimette Adamo nella condizione di prima, in cui è nudo ma non ne prova vergogna, ma gli fa l'abito. Cioè dice, nella situazione in cui sei, ti propongo un cammino verso il bene e ti aiuto, ti do un ausilio. Ecco la misericordia. La misericordia è camminare sostenendo questo cammino, indicare un cammino sostenendolo. Don Alberto ci ha ricordato il valore di quella frase, io sono colui che sono. Il mistero del nome di Dio in quella formula ebraica apparentemente semplicissima, perché è una formula del verbo essere, presente, indicativo. in realtà è una forma indeterminata che esprime un presente che va verso il futuro. C'è in francese, è trantrende, stare per. Io sono quello che, e va avanti. Così è quella forma verbale. Quindi Dio è un Dio che si presenta come colui che cammina, che si muove. In questo senso, non la misericordia di un giudice seduto in maniera statica sul suo trono, ma di qualcuno che cammina con te. Ecco l'immagine del creatore, del liberatore, del pellegrino a fianco del suo popolo. Dio è libero di essere misericordioso, quindi a volte può non esserlo. Attenti. Noi abbiamo qui i nostri limiti umani e anche logici a volte. Consideriamo la libertà con una visione filosofica piuttosto riduttiva come possibilità di scelta. La vera libertà, dice Sant'Ommaso d'Aquino, che a volte lo cocco, a volte lo tratto male, c'è un rapporto un po' conflittuale con Sant'Ommaso. La vera libertà è scegliere il bene. Questa è la libertà. Chi sceglie il male si autodistrugge, quindi non è libero. La vera libertà è scegliere il bene. Quindi Dio esercita la pienezza della sua libertà continuando a scegliere il bene. e siccome il sommo bene è essere ciò che si è e lui è misericordioso, lui sceglie di essere se stesso con continuità. Non è un giochetto di parole, fidatevi, è abbastanza corretto. Noi a volte abbiamo una visione limitata anche di certi concetti importanti come la libertà. La libertà è scegliere, no? La libertà è scegliere il bene. Perché se uno sceglie il male, se spara su un piede, non è libero. È un fesso, scusate. Dio è compagno di strada di Abramo. Come si è oggi compagni dell'uomo? Credo, facendo un pochino lo sforzo che ha fatto il Signore, Dio ci ho sempre pensato, mi ha colpito. Io a volte ho le idee un po' strane, abbiate pazienza. Dio stava in paradiso. Il posto più bello che c'è, me l'immagino anche con l'aria condizionata ideale. Beh, per andare a trovare Abramo si è messo nell'ora più calda del giorno ad attraversare un deserto. No? È chiaro che per camminare con un fratello ti devi scomodare. Ti devi scomodare. E questo credo che sia importante. Cioè non c'è un modo per farsi vicino all'uomo senza restare in qualche modo sporcato è ferito. Non si può fare le cose disinfettate senza rimetterci. Camminare vicino a qualcuno vuol dire intanto non camminare col tuo passo. io che ho un passo da Montanaro tutte le volte che vado in una processione ci soffro. Ma di brutto, eh? Perché alla fine faccio una faticata come avessi fatto quattro volte lo stesso percorso. Mi tocca andare al passo degli altri ma camminare a fianco degli altri vuol dire questo. Dio può fare allora anche un nuovo abito per coloro che agli occhi del mondo hanno fallito ad esempio nel matrimonio è la sfida che il Papa ci ha lanciato. Il Papa ci ha detto sicuramente Dio non ha rinunciato a tracciare una via di salvezza per queste persone sicuramente questo non possiamo dubitarne che Dio voglia salvare tutti non possiamo dubitarne quindi ci deve essere una via di salvezza per queste persone che si sono infilate anche per colpa loro questo bisogna che ce lo diciamo chiaro a volte dentro un ginepraio sta a noi come Chiesa avere tutta la fede la fantasia e l'ascolto del Signore in mezzo a questo ginepraio per stare a fianco di questi fratelli e indicargli qual è la via per uscire dal ginepro però sapete il ginepro c'ha le spine quindi che uno possa riuscire ad andare in fonda un ginepraio dove è finito qualcuno indicargli la strada per uscirne cercandola lasciandosi guidare da Dio senza graffiarsi un po' e farsi un po' di male anche lui cavatevelo dalla testa è facilissimo per la Chiesa non c'è rischio a dire il catechismo dice questo questo bisogna fare punto la sfida è quella di dire ci proviamo a andare un po' più vicino a queste situazioni la prossimità di cui parla Papa Francesco per cercare dal punto di vista di questi fratelli e con la luce della fede di dire che strada ti traccia Dio per uscire dal guaio dove ti sei cacciato cerchiamola assieme cerchiamola assieme con rischio di sbagliare lo so cerchiamola assieme a noi Vescovi il Papa ci ha detto non non dite qualcuno dovrà decidere se questa situazione è così o cos'ha no no mettetevi voi di mezzo ma io ci rischio la faccia beh tuo mestiere tuo mestiere ecco questo è la misericordia in atto io speravo di essere diventato Vescovo su un altro periodo di chiesa ma ho detto male sono convinto che senza misericordia non c'è giustizia come possiamo allargare questo concetto ma vedete ogni giustizia realizzata dagli uomini è fatta con la testa degli uomini una testa che tanto logica e poco empatica poco attenta poco vicina rischia di fare una giustizia mozza di fare una giustizia piccola vi faccio un esempio molto semplice a un giudice viene presentato un foglio dove in sei righe gli viene spiegato il caso legge le sei righe trova le leggi che corrispondono e fa la condanna ha fatto giustizia un giudice misericordioso non è uno che dice ah questo qui magari forze è un giudice che dice ma siamo proprio sicuri che l'abbiamo capita fino in fondo sta situazione magari io sono disposto a a leggerne 30 di righe non sei magari sono anche disposto ad ascoltarlo un quarto d'ora di più l'avvocato della difesa per capire fino in fondo e poi pronuncio la mia sentenza questo giudice che ha vissuto di più la misericordia fa una giustizia migliore questo è certo ecco la misericordia è una via di maggiore giustizia per esempio l'ideale sarebbe che nessuno giudicasse sulla sorte dei senza tetto senza aver dormito almeno una volta nella sua vita sotto le stelle probabilmente dopo la cosa la giudica in modo diverso misericordia e giustizia o poi io non so lo spirito santo sto dicendo delle cose così dettate dal buonsenso però sapete il diritto è particolare ma il buonsenso è universale quindi ci siamo finiamo con quest'ultima spesso si mettono a confronto due immagini di donne nella Bibbia quella di Maria e quella di Eva la prima portatrice di vita in quanto madre di Gesù la seconda peccaminosa perché ha mangiato il frutto dell'albero l'ha mangiato tutti i due e siccome io sono uno che gli piace i conti ho analizzato quel testo nell'ebraico dall'inizio alla fine tutta la sezione di Adamo ed Eva essendo un testo narrativo avendo due personaggi deve far sempre prima agire prima uno poi l'altro però se voi leggete il testo vi rendete conto che c'è un'alternanza quasi matematica prima compare uno poi compare l'altra poi prima agisce l'altra poi risponde l'altro poi prima ricompare l'uno poi agisce cioè il narratore ha curato un'alternanza nel racconto per cui il testo deve per forza mettere prima l'uno poi l'altro nelle azioni ma una volta lui una volta lei si nasconde lui prima di lei c'è un gioco sul testo il testo è molto più equilibrato di quello che pensiamo io credo che intanto una parolaccia che dicono di Eva è assolutamente falsa perché c'era un uomo solo ed era suo marito e così abbiamo chiuso con una battuta grazie ancora di questo primo incontro ha aperto questo ciclo di sei appuntamenti tre li abbiamo in questo mese di gennaio gli altri tre nel mese di aprile dopo i tempi un po' più importanti che ci coinvolgeranno sia per la cuoresima che per questa ancora questa fase di pellegrinaggio alla porta santa da parte delle unità pastorali ricordo che il prossimo appunto sarà martedì 19 sempre qui e con Don Piero Tantucci che ci aiuterà a entrare nella misericordia di Gesù nel Vangelo e perciò alcune domande che trattavano un paio di domande che trattavano del Nuovo Testamento dei Vangeli in particolar modo del Padre Misericordioso l'abbiamo messa da parte ma rilateriremo fuori con Don Piero la volta prossima e il terzo appuntamento il 26 gennaio con il professor Giacchetta Francesco Giacchetta il nostro professore la misericordia nel quotidiano gli altri tre appuntamenti avranno più un taglio molto più pastorale molto pratico come vedete da titoli tutto questo ci prepara anche al secondo momento di questo anno giubilare che sarà la Peregrinazio Marie che si avvierà in aprile dove partiranno la volontà di far partire dai centri d'ascolto per due serate dove nella settimana in cui sarà presente il quadro della Madonna della Misericordia i parroci sono già stati invitati a individuare alcune figure che possano fare da animatori da animatrici nei centri d'ascolto e anche individuare famiglie che possano aprire la propria casa per accogliere i centri d'ascolto sono due situazioni diverse invito in questa occasione i parroci a approfittare della benedizione delle case che viene fatta da qui in avanti anche per individuare quelle famiglie che possono rendersi disponibili ad aprire la propria casa per i centri d'ascolto e completiamo e finiamo con la preghiera alla Madonna della Misericordia che ci guiderà per tutto questo anno faccio solo uno spot pubblicitario visto il successo di anno scorso e anche della favola della sera di Natale allora ho preparato per accompagnare la meditazione durante i giorni della Quaresima un libretto dove ogni giorno della Quaresima c'è il brano del Vangelo del giorno un piccolo commento a quel brano una riflessione sulle opere di Misericordia e una di quelle favolette che insegnano qualcosa facendo sorridere e ci accompagnano in tutti i giorni della Quaresima e se attraverso i parroci li potrete avere questi libri noi li diffondiamo semplicemente al prezzo del costo credo che andranno a costare intorno a un euro al massimo quindi proprio quello che ci costa stamparli se i parroci sono interessati qualcuno interessato cercate un po' di farlo sapere perché così ne stampiamo in un numero credibile altra novità oltre quella prossima per la Quaresima è che da lunedì scorso Emmaus è online cioè non sarà più cartaceo ma lo troveremo su internet emmaus online punto it e già da lunedì è partita questa nuova avventura e ci sono novità all'interno di questo giornale online e siamo invitati tutti a nelle nostre possibilità di entrare dentro ci sarà anche una forma cartacea che è quella legata al giornale avvenire sarà un'uscita mensile di quattro pagine che coprirà tutto il territorio regionale la prima uscita di avvenire Don Luigi 16 16 febbraio sarà la prima uscita sul cartaceo su avvenire sì la collaborazione di tutti è importante nel nome del padre del figlio e dello spirito santo sotto la tua protezione ci rifugiamo madre della misericordia insegnaci a confidare sempre nell'amore di dio madre del buon consiglio confortaci nel pellegrinaggio della fede stella del mattino apri i nostri cuori all'accoglienza dei fratelli porta della casa di dio consolaci nelle prove nelle malattie consolatrice degli afflitti guidaci nelle scelte della vita sede della sapienza tienici lontani dal male madre immacolata insegnaci a perdonare le offese madre addolorata benedice conduci il nostro popolo madre della chiesa intercedi per noi presso il padre figlia del padre celeste donaci il tuo figlio gesù madre del figlio redentore ottieni per noi il dono dello spirito sposa dello spirito santo e dalla fine del nostro pellegrinaggio terreno vienici incontro per aprirci le porte del cielo regina degli angeli e dei santi amico buonanotte buonanotte e buon rientro a tutti grazie a tutti